L'incursione della polizia alle prime luci dell'alba ha liberato la città di Asti da una banda di balordi accusati di rapina e lesioni. Quattro le persone finite in carcere, di cui due minorenni e un quinto ricercato nell'ambito dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla procura della Repubblica di Asti e dalla procura minorile di Torino. Si sono conosciuti in quanto una delle ragazze ha intrattenuto una relazione sentimentale con uno degli altri arrestati, di cui si è formato il gruppo. Le indagini sono partite in seguito ad alcune rapine e furti avvenuti nel centro cittadino ai danni di donne anziane, una delle quali è morta dopo essere caduta. Le due donne incontrano l'anziana in strada, siamo nella zona centrale di Asti, Corsa Alfieri, la seguono per un tratto, dopodiché la rapinano. In questa circostanza sfortunatamente la donna subisce un colpo, cade per terra e dopo circa una decina di giorni decede a causa del trauma cranico. Capite che l'attività è stata un'attività particolarmente complicata. Dall'attività investigativa è emerso che alcuni degli arrestati agivano sotto l'effetto di droga e che i reati venivano commessi per procurarsi la dose giornaliera, utilizzando una pistola risultata poi essere ad aria compressa. Un contesto sicuramente degradato, un contesto nel quale i valori civili e sociali sono estremamente bassi, un contesto fatto quotidianamente di uso di sostanze stupefacenti e la motivazione che spinge questa banda a compiere questi reati è appunto l'acquisto di sostanze stupefacenti. Grazie per la visione!